Netflix Open Connect è la CDN di Netflix, facciamo delivery di 100% dei contenuti di Netflix dall'Italia, ovviamente abbiamo una buona presenza in Italia, facciamo peer in pubblico a Mix e a Topics e abbiamo possibilità di interconnesserci privatamente ad Infracom a Milano con 99% del mercato italiano. Abbiamo varie opzioni per l'interconnessione, come abbiamo detto con interconnessione pubblica e privata e abbiamo anche la possibilità di installare le Open Connect Appliances che sono server dedicati di nostra produzione da installare all'interno della rete degli ISP. Questo generalmente crea una situazione in cui gli ISP riescono a salvare abbastanza soldi da richiedere questo tipo di servizi. La situazione in Italia è abbastanza dipendente da Milano al momento e questo è una ragione storica perché il Caldera Business Campus è stato il primo posto in Italia dove l'internet è nato ed è il posto più interconnesso d'Italia ancora adesso. Gli operatori si sono adattati nel tempo e hanno deciso di rimanere in Italia in Infracom e in Avalon e nella MMR di Avalon per ragioni storiche e la presenza di molti operatori fa sì che tutti i nuovi operatori si connettano sempre allo stesso data center. Ultimamente comunque c'è stato un drive molto grande ad uscire da Milano, vari operatori ne hanno parlato prima di noi oggi in varie conferenze, nell'ultimo anno soprattutto. e secondo me i posti dove in futuro l'internet si svilupperà in Italia sono Roma e Palermo.